Ciao amici, Google Doodle di oggi celebra Masako Katsura, la first lady del biliardo. Che ha fatto la storia come prima donna a competere per un titolo internazionale di biliardo il 7 marzo 1952, Google ha cambiato il logo della sua home page con un doodle animato. Masako Katsura, 1913-1995, è un giocatore di biliardo giapponese attivo negli Stati Uniti. Il suo soprannome è Katsi. È specializzato nel biliardo da carambola, diventato popolare negli anni 50. Nata a Tokyo nel 1913, Katsura ha imparato a giocare a biliardo all'età di 12 anni da suo cognato. proprietario di una sala giochi. E a 15 anni è stata la campionessa giapponese delle donne in stride trail, una variante impegnativa del biliardo carambola in cui il biliardo deve colpire due palline di fila per segnare punti. Quando Katsura si trasferì negli Stati Uniti nel 1937, la parola del suo talento senza precedenti aveva raggiunto l'otto volte campione del mondo, Welker Cochran. È uscito dalla pensione per sfidarla in una serie di partite a tre cuscini, una versione ancora più dura del biliardo carambola, raffigurato nell'opera d'arte Doodle. Che richiede che la bilia battente colpisca almeno tre cuscini prima di colpire le due biglie oggetto per punti. Katsura impressionò così tanto Welker che organizzò il torneo del campionato del mondo di biliardo nel 1952 per vederla competere contro i più importanti appassionati di biliardo del mondo. Katsura ha sconvolto alcuni dei migliori giocatori di questo sport finendo settima nel torneo. Mentre i progressi che ha fatto per le donne in un gioco tradizionalmente dominato dagli uomini sono stati i primi. Quindi eccoti qui, First Lady of Biliard. Grazie per aver incoraggiato questo sport per le generazioni di donne a venire.